Allora Agu siamo insieme Quindi non facciamo i protagonisti Mi raccomando umidi A tenere la posizione Puntiamo alle prime venti Qua 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 Agu Vieni qua in questo qua E tu? Oh andiamo qua sopra se vuoi Però qua siamo troppo scoperti Oh lo vedi dove ho pingato? Sì ecco sta là sicuro verde E io cazzo sto andando sopra No tutto cazzo Ma porca Io sto sopra qua Ma c'è la pistola Ma come la pistola? Eh se ne stanno cercando come faccio a scappare Mi vedi a me nella mappa in alto a sinistra Ah qui dove sono io No ma tu ho visto ecco ti però Scappiamo da sto Come si corre? Tu ti buttava Scusa scappa 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 Porca troia Non mi sappia Porca puttano T'ha preso? Eh sì Black chair Che cazzo? La mitraglietta Questa dorata Ambedì a pedraglietta Semplicemente Cancerino Semplicemente Io vio questa Perfetto Ecco ti dove sei Terracì Terracì vieni qua Terracì Do sto io? Merda terracì Bello Zitto che casco dentro l'acqua Ambedì che buccio da puro con il tasto in mezzo eccoci, ecco, tu stai qua 30 metri, dove stai? vieni qua, ma sei cieco ma mi vieni a quello? porco sio, ma te giri, dove stai? oh qua ah ecco, te come stai? come si abbassi? come si abbassi? come si abbassi? come ti abbassi? come cazzo ti abbassi tu? col cerchio, col cerchio ah ok tu diciamo in basso a sinistra di fianco al tuo nome che sta succedendo? vai da qui, sta arrivando il gas qua occhio, questo qua occhio, occhio, fermati, fermati hai visto là che è caduto tipo eh, lì vuoi che c'è qualcuno secondo me, ah, uo eh, andiamo se ne via, cazzo c'è ma se si metteva dentro il camion eh, ma arriva il gas se tu schiacci il tasto in mezzo della play che ti sto dicendo vedi la mappa? quello bianco, grosso e nore sì, lo vedo, lo vedo eh, vedi che sta arrivando un gas che si avvicina? è dietro di te, ah, uo là vedi che c'è una nuvola gialla? guarda là eh, lo vedo, lo vedo, lo vedo eh, quello lì è il gas che diciamo sta modalità qua e quel gas lì arriva finché diventa un cerchio piccolissimo e tutti muoiono, hai capito? si restringe ogni tot tempo tipo ah, ho capito vieni qua, vieni qua, che sei nella safe andiamo avanti, vieni qua eccoli, eccoli, auguri, vedi sul tetto? sì, porco zio, come facciamo? bisogna sparare a pezzo di mezzo vieni a questo morto vieni a mezzo no, vabbè, vabbè, un pezzo del merda mai visto ho uso vivo, ancora non sono morto vieni, vieni, vieni aspetta, aspetta ti venga a salvare, ti venga a salvare, aspetta vieni verso di me e dove, che cazzo? eh, mi ha ammazzato la porca, broia sto bastardo no, raga, ma sto dentro a una prigione sì, adesso questa qua praticamente ti sfidi uno contro uno e chi vince torna in vita l'altro muore e tu sta? eh, adesso sarai nella sala d'attesa dopo, quando entri dentro c'hai un'arma non tocca a me, tocca a me, tocca a me attenzione dove vado, raga? ma ho ammazzato ma guarda sto bastardo ma non si può compiare da visuale averci una visuale più grande toccato te, rapia ma mi vedi sulla mappa 1? sì, ti vede faccio una testa di basso lo vedi? dove stai io? mi aspettavo io più al fucile sette metri in tu stai? quattro metri che cazzo sta sto fucile? che è sta cosa? oh, qua c'ho un bordello di roba che so prendi, 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 dobbiamo andare via preso tutto vado qui ah, quando ci possiamo andare? bisogna andare qua eccomè? qua dobbiamo andare, Agu comunque Agu dopo che andrei se ne vado sui GTO se vuoi stanno mezz'oretta ti dico io come funziona bavo vieni Agu, vieni com'è c'è qualcuno, Agu c'è qualcuno, scappa ma come scappa? ma porca troia ma come scappa? ma come faccio a scappare? ma dove andiamo? oh, ma porca troia come scappa? dove mi metto? scappa scherzo io mi sto scappando ma posso scappare pure io vabbè tu sei pezzo del merda mai visto come si scappa qua? ma io sto girattura a sta ma porca troia ecco io esco ma che cazzo mi frega me ecco sono uscito ma come sono uscito? nooo dici c'è qualcuno ecco vedo uno che si è muo oh sta arrivando un cingolato eh sì eh sì ma speccare armato sta arrivando porca troia il gas paro Andresmo porca troia ma vaffanculo ho ucciso ho sparato mezz'ora prima tutti vaffanculo eh dai ma non va bene così oh vabbè ma è una vergogna ma c'è l'avevo uccisi tutte e due l'avevo presi ma vaffanculo dai su ma l'avevo presi non l'ho preso comunque avevo un fucile di merda sì ma pure io io avevo di fronte cazzo ero ah là eh vabbè io non mi pio mai ora sono morto lui mi ha sparato a me io ho sparato a lui lui mi pia io no ma io che sparo a salve non ho capito beh che cosa hai sparato un cecchino ah tu eh io sto parlando a sparare eh eh questa è buona sta cosa guarda è un uc eh lo vedi mi si muove un cavolo eh ti ha ammazzato mazza il pezzo del merda ma dove stava ma chi ti ha preso che camp che camp eh no no che anche lui stava camperando pezzo del merda pezzo del merda testa devo devo vincere il gula che ragazzi mamma mia se vince un gula il camperino è andato solo a pugni lo vedi doppio passo e via ma si può salire tutta qua vadela vadela a mezzo e pezzo del merda questo butta dentro e spara spara ma vaffanculo ma come te fa a piaù dobbiamo organizzarci secondo me e fare la prossima volta una sorta di tipo casting per trovare il più cioè noi dobbiamo perché le squadre sono a 4 qua dovremmo trovare due forti forti della chart ma proprio forti forti mandate la clip al bot ragazzi c'è un livello in cui si capisce quanto uno è forte beh comunque adesso mi informo ve lo scrivo sulla fucina se siete interessati punto e schiamativo fucina ciao cane ciao